Benvenuti nel nucleo pulsante di Italia Gossip Express, prima di rivelarvi gli avvenimenti odierni desideriamo richiedere il vostro prezioso supporto, un gesto semplice, un mi piace a questo video e la consegna al nostro canale, costituiscono per noi un segno di notevole importanza, vi siamo grati di cuore Sandra Milo, non pì tra noi in una svolta tragica e in attesa la luminosa protagonista del cinema italiano Sandra Milo, nata salvatrice Elena Greco, ci ha lasciato la sua scomparsa avvolta in un mistero dato che le cause esatte della morte restano sconosciute anche se si ipotizza siano legate alla sua età avanzata nata sotto il sole di Tunisi, nel 1933 la Milo aveva celebrato il suo novantesimo compleanno L 11 marzo 2023 prima di lasciarci nella sua dimora romana, creando un vuoto insormontabile nel panorama artistico, la sua carriera avviata negli anni 50, L ha vista emergere come una delle icone P riconosciute e amate del cinema italiano, la sua presenza scenica incomparabile attirelle attenzione del leggendario Federico Fellini che la defina affettuosamente Sandrocchia la loro collaborazione ha regalato al mondo capolavori come 8 e mezzo un film insignito di un premio Oscar. Oltre a Fellini Sandra Milo ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi del cinema italiano, tra cui Pupi Avati, Gabriele Salvatores e Gabriele Muccino, oltre a condividere il palcoscenico con icone come Marcello Mastroianni, i suoi ruoli hanno attraversato generi e stili lasciando un'impronta indelebile in film come Fantasmi a Roma e il generale della rovere Malamilo non si limitata al grande schermo la sua carriera e le ha vista brillare anche in televisione sia in Rai che in Mediaset, ha debuttato in televisione nel 1966 e dopo 20 anni tornato alla conduzione in un'epoca dominata dal partito socialista italiano, ha condotto vari programmi tra cui Mixer negli anni 80 e Buongiorno Domenica e P. Tardi nella sua carriera stata concorrente dell'Isola dei Famosi e ha condotto il programma Quelle brave ragazze su Sky 1 la sua vita privata stata altrettanto ricca con quattro matrimoni e tre figli Sandra Milo lascia un eredit di talento, passione e carisma che rimar per sempre nel cuore di coloro che elle hanno ammirata e amata la sua scomparsa segna la fine di un'epoca ma il suo spirito e la sua arte vivranno per sempre e tu quale la tua opinione su questo triste evento scrivilo nei commenti